Perché vi avevo consegnato quei cuccioli su un vassoio d'argento e non siete stati capaci di sistemarli a dovere? Beh, sai, non è che quei cuccioli fossero proprio soli, Scarf? Già, cosa potremmo fare? Uccideremo Fasa? Esattamente. Da ciò che vi leggo negli occhi, Io so già che il terrore vi squaglia, Non siate però così ciocchi, Trovate l'orgoglio marmai, Sono vaga le vostre espressioni, Riflesso di stupidità, Parliamo di resuccessioni, Ritrovate la lucidità, Il mio sogno si sta realizzando, È la cosa che bravo di più, È giunto il momento del mio insediamento, Ma noi che faremo? Seguite il maestro, E voi, sfidollati, berrete premiati, L'ingiustizia è una mia gran virtù, Avrò gli occhi di Scarf, Sai per me? Sarò re! Sì, siamo pronti, saremo pronti, ma per cosa? Per la morte del re! Perché è malato? Idiota! Lo uccideremo noi! E si va con noi! Sì, buona idea, a che serve un re! Idioti, un re ci sarà! Ehi, ma tu hai detto? io sarò il re seguitemi ma in cambio di questa indulgenza qualcosa mi aspetta voi la strada con sparsa domaggi per me e anche per voi l'acqua ma è chiaro che questi vantaggi li avrete soltanto con me e sarà un gran colpo di stato la savana per me troverà il piano è preciso perfetto e conciso decenni di attesa vedrai che sorpresa sarò un re stimato temuto ed amato nessuno è meglio di me affiliamo le zanne perché sarò re affiliamo le zanne perché sarò re ha 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 ha